Buonasera, io parlo di acqua perché sono anni che mi vado per acqua pubblica, mi vado per un altro povere di società, perché votare domenica e lunedì due chi per l'acqua pubblica e votare per un altro povere di società, non è solo votare per l'acqua, perché ricordatevi che al primo quesito si vota anche per tutti gli interpubblici, trasporti, richiuti e potrebbe anche per la comunità, perché il primo quesito può privatizzare tutti gli interpubblici, perché dobbiamo dare un segnale forte a questo governo e a quelle che hanno preceduto e che hanno fatto tutte queste leggi. Grazie.